L'utilizzo degli scatti in cucina Questa non vuole assolutamente essere una lezione di morale su come comportarsi in cucina ma dei consigli su come utilizzare magari il cibo di scatto che non buttiamo ma che in realtà possono essere buonissimi per le ricerche che non conosciamo e quindi ringrazio Dario Bertani per essere qui con noi questa sera per aver scelto di presentare il libro all'unitecatrismo che sapete sia talmente espansa che da diventare un semplice luogo di prestito e restituzione di libri è diventato un centro di aggregazione tra le persone un momento di scambio e confronto per presentazione di libri un luogo dove ospitare iniziative, mostre e questo lo ha fatto nel corso degli anni è cresciuta sempre di più fino ad arrivare a offrire un vero e proprio calendario completo, costruito, di qualità e di alto livello per tutto l'anno partecipando e venendo come dicevo prima mettendosi in relazione con tante altre realtà del nostro territorio un ringraziamento ovviamente va alla direttrice Ciancunino della biblioteca perché insieme a Ivana, insieme ad Anna Rizza, Claudio e Samuele fanno un grandissimo lavoro quello che vedete, quello a cui potete partecipare tutte le iniziative che si svolgono nella biblioteca sono merito loro del grande lavoro che si fa sia di calendarizzazione perché sono comunque iniziative pensate dall'inizio dell'anno ma sono anche un grande lavoro di organizzazione e soprattutto anche di iniziative che vengono piaciate momento per momento quindi un grande ringraziamento a loro per il lavoro che fanno e per il grande supporto che danno all'unità culturale di questa città grazie a tutti e buona presentazione del libro grazie mille all'assessore Giulia Gallegati buonasera, benvenuti a questa serata qui in bibliotecatrisi un po' diversa dalle solite mi presento, io sono Luciana Cumino direttrice della bibliotecatrisi da ormai più di un anno e questa iniziativa, come anticipato l'assessore rientra in un gruppo di iniziative che la biblioteca ha voluto organizzare all'interno del team Illumino di Meno Illumino di Meno dove in teoria è solo una giornata cioè il primo marzo quest'anno era sul consumo circolare ma la biblioteca ha voluto impegnarsi un po' di più quindi non solo una giornata anche perché non avevamo tempi tecnici per organizzare qualcosa in così poco tempo da quando l'ufficio ambiente ce l'ha proposto ma volevamo comunque dare il nostro contributo e il nostro contributo io personalmente ho voluto che fosse per tutti quindi per questo abbiamo pensato a più iniziative iniziative per ogni fascia d'età quindi abbiamo pensato ai piccolini con delle letture a tema con i nostri volontari del programma Nati per Leggere abbiamo pensato ai più grandicelli con il laboratorio sul riuso dei giocattoli sul giocare con le cose normali che si trovano in casa e lo abbiamo fatto ieri pomeriggio è stato veramente un divertimento per grandi e piccini oggi pensiamo agli adulti e qual è uno degli argomenti che tocca di più noi adulti? il cibo è uno dei nostri poi ricordiamoci di Siammire Emilia Romagna che dalla rivista Ford nel 2013 è stata nominata la regione in cui si mangia meglio al mondo e il culto che c'è in Italia del cibo ma in Emilia Romagna in modo particolare fa sì che la tappa del cibo fosse praticamente una tappa obbligata in più devo aggiungere che quando io ho visto questo libro sono veramente rimasta conquistata non solo per il contenuto che adesso ho poi di cui adesso parleremo ma dire che anche l'aspetto editoriale mi è piaciuto molto è curato è veramente confezionato con gusto con perizia è un prodotto, devo dire, di alto livello come non si vedono quasi più ormai anche siamo abituati a una veste editoriale che sta diventando sempre un po' più povera questo libro invece mi è piaciuto anche proprio per le sue caratteristiche estetiche oltre che il contenuto faccio un'ultimissima recisazione e poi lascio la parola a Carlo Catani perché giustamente lui mi ha ripresa perché noi l'abbiamo pubblicizzato come chef non lo so, ci è venuto naturalmente così in realtà lui non è uno chef ma forse proprio perché oltre alla presentazione del libro e al parlare del progetto Tempi di recupero che questo è un progetto in realtà con mille saggettature avremo anche appunto gli assaggi come ben sapete comunque qui ci sono ricette di grandi chef che lui ha selezionato e ha inserito all'interno di questa pubblicazione vi auguro una buona serata un buon divertimento cedo la parola a Carlo e ringraziarlo per essere qui con noi grazie mille Luciano per essere solo a tutti voi che siete qui allora tanto vi dico un po' che sono da dove vengo e cosa faccio che così anche forse si inquadra meglio visto che non vengo da tanto lontano ovviamente come forse l'accento non tradirà dunque io vengo sono laureato in scienze statistiche quindi uno dice cosa c'entra sta roba qui un gran can non tanto però quando ho capito perché lavoravo in banca al primo periodo della mia vita che un centro di lavorazione dati banca poco lontano quando ho capito che proprio quella roba lì non mi piaceva tanto nel 2003 mi sono licenziato perché stavo già facendo dei tentativi di avvicinarmi al mondo del cibo e del vino facendo docenze sul vino principalmente eccetera eccetera però a un certo punto aprì l'università di scienze gastronomiche io avevo fatto un colloquio quella che è a Pollenzo fatta da Slow Food ed è la prima università di scienze gastronomiche che hanno fatto l'Italia è un'università riconosciuta quindi che nasce a titolo legale che era classe di agraria all'inizio oggi esiste proprio una classe di scienze gastronomiche e io licenziandoli dalla banca e facendomi ridere da molti oggi non so quanti riderebbero poi così tanto questa situazione della banca che non è che sono poi così grosse diciamo sono andato a Bra un paese di provincia di Cuneo che tradotto in inglese vuol dire Giseno quindi questo fa abbastanza ridere dove a Pollenzo veniva aperta questa nuova università che all'epoca però nel 2003 doveva fare soprattutto l'Inter per avere riconoscimento nel suo corso del suo Inter di studi sono stato lì nove anni quindi da Faenza che è la mia città dove ho sempre tenuto la residenza anche nei periodi in cui ero in Montese praticamente sono andato un breve periodo da Colonna in provincia di Parma dove eravamo nella regia una delle sette università che ho diretto per due anni e poi sono andato a Pollenzo e ho diretto l'università fino a fine 2011 poi con l'università collaboro anche oggi come docente però sono i master perché non sono un accademico finito con dottorato eccetera però continuo questa collaborazione quando sono tornato a casa diciamo mi sono riavicinato ai progetti nel mio territorio quindi sono ripartito subito con Cinema Divino che oggi porto avanti e ancora oggi sono diciamo quello che più o meno porta avanti nelle regioni non solo in Emilia Romagna il progetto e quando purtroppo è mancato un caro amico che era quello peraltro che aveva fatto nascere il Cinema Divino per dare una mano al suo locale dell'Osteria della Svisa ci siamo inventati una serata che mi accesse a noi da organizzare che fosse bella interessante e divertente e di stimolo secondo me per quello che potevano essere le persone che sarebbero venute quindi stiamo parlando del 2013 iniziamo questo progetto Tempi di Recupero che aveva tre pilastri quindi tre temi da svolgere per le persone che avremmo invitato i tre temi legati al recupero del cibo sono sostanzialmente il quinto quarto ossia far tagli animali ma il quinto quarto può essere anche di pesce le teste le dische eccetera e può essere anche vegetale le foglie più coliacee le parti esterne le parti che si buttano oggi si chiama tutto il quinto quarto diciamo così il riuso i piatti del riuso quindi i piatti del giorno dopo quelli che con inventiva vengono fra virgolette rielaborati e molte volte possono essere a volte anche più buoni di quello che poteva essere il piatto pensato inizialmente nel libro racconto anche di questa minestra fritta genovese che è una roba molto interessante perché di fatto quando preparavano il piatto pensavano già anche a quello che avrebbero fatto con l'avanzo queste cose qui sono le attenzioni che noi vorremmo cercare di riportare su quello che è la nostra cultura perché il nome tempi di recupero vi dico il terzo recupero e poi vi dico la genesi del nome il nome tempi di recupero nasce allora dal fatto che tempi di recupero è un termine calcistico calcistico perché i tempi di recupero sostanzialmente sono normalmente gli ultimi minuti nel calcio in cui tu puoi tentare di raddrizzare un risultato che normalmente non è tanto positivo quindi la zona cesarini eccetera qui il parallelismo è fatto con la situazione ambientale mondiale qui siamo un po' nei tempi di recupero se non incominciamo a fare un po' più attenzione sugli sprechi e anche sull'attenzione a quelli che sono i cambiamenti climatici e tutto l'inquinamento eccetera eccetera probabilmente siamo a fine partita e il risultato non ci sta sorridendo diciamo così poi c'è un altro parallelismo secondo me che io ho vissuto e me lo ricordo abbastanza bene che è quello dell'infortunio i tempi di recupero sono anche da un infortunio tu ti fai un costrappo nel calcio stai fuori due mesi perché devi aggiustarti il tuo muscolo quindi infortunio secondo me l'abbiamo avuto negli anni 80 io ricordo un periodo in cui se tu andavi al ristorante non ordinavi una camionata di robe non la lasciavi lì era una roba che non era bella oggi secondo me se non lo fa mi è prego scemo sostanzialmente per fortuna aggiungerei però quello dov'è è un infortunio che ostentare uno spreco fosse una cosa bella credo che fosse veramente una roba da cui è bene uscire di corsa quindi diciamo il nome del progetto nasce da questi due parallelismi anche perché il nostro obiettivo è essere giocosi scherzosi fare serate divertenti dove proviamo a lanciare un messaggio importante ma farlo in maniera leggera che noi non vogliamo insegnare niente a nessuno noi vogliamo divertirci cercando di fare una cosa che per noi ha un senso ha un'etica importante ma senza voler fare i saccenti o chissà che noi vogliamo fare delle serate dove la gente viene mangia bene 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 e porta a casa spero qualche cosa su cui magari riflettere eccetera il terzo recupero che vi dicevo che a volte è anche trasversale e due è il recupero della tradizione perché anche tanti piatti della tradizione oggi si stanno perdendo per una serie di motivi inaccessibilità delle materie otrime o anche tempi un po' stretti mancata trasmissione da parte delle generazioni anche perché alcuni piatti magari sono troppo complicati o non c'è tempo eccetera ci sono una serie di motivi però alcuni piatti della tradizione erano veramente interessanti e trasversali sia il quinto quarto che il riuso però abbiamo voluto inserire anche questo terzo elemento perché perché di fatto noi abbiamo coinvolto su questi tre temi tre protagonisti i tre protagonisti che abbiamo coinvolto sono gli chef creativi o stellati diciamo che sono quelli che normalmente con la loro creatività eccetera eccetera riescono a raccontare anche con le tecniche dei modi di recupero sempre originali e interessanti gli osti che sono un po' in porta bandiera della nostra tradizione con dei locali ma soprattutto le adore quindi il terzo protagonista sono signore di solito over 70 che non hanno ristoranti ma che lo fanno in casa il loro lavoro che però noi abbiamo invitato in certe serate a raccontarci il loro recupero sono venute serate tutte molto interessanti diciamo dal 2013 noi siamo alla 50 abbiamo fatto 56 serate abbiamo iniziato a numerare i menù perché alcuni malati della raccolta dei menù raccoglitori compulsivi ci hanno chiesto anche di numerarli perché così potevano fare la raccolta anche di questa roba 56 serate in sei anni perché siamo al sesto anno adesso lo stiamo facendo anche fuori dall'osteria della Sisa però all'interno del libro noi abbiamo raccolto i primi 4 anni di serate non tutti in realtà ma quasi tutti perché alcune serate diciamo abbiamo scelto di non inserire perché magari erano fatte non da tre figure ma da storici o da persone che hanno fatto delle varianti sul tema di Massimo Montanari e altri però abbiamo cercato di fare un libro che fosse molto originale nel senso tanto abbiamo diviso le serate e le ricette per i tre tempi che vi ho detto quindi il quinto quarto vi uso tradizione poi abbiamo anche cercato di dare tre chiavi di lettura nel libro nel senso c'è una parte di consigli quindi consigli su come cercare di evitare di sprecare di buttarmi a robe quindi che vanno dalla lista della spesa che uno fa quotidiana ma come stocca le cose nel frigorifero come separa gli elementi le cose cotte dalle cose crude tanti consigli pratici proprio da giornalieri poi un secondo livello di lettura è quello delle ricette chiaramente ogni serata è raccontata con un po' di descrizione del locale che l'ha pensata il protagonista la filosofia che ha messo diciamo nel pensare il menu e una ricetta del menu una sola delle quattro che ha realizzato nella serata con tutta la recettazione e gli elementi per il procuro a casa ovviamente abbiamo cercato di tenere un'attenzione su quelle che erano le più semplici anche le ricetture a casa propria perché se uno poi riesce a andare solo se ha l'attrezzatura di un ristorante importante alla fine insomma è difficile poi a casa riuscire a combinar qualcosa anzi si crea frustrazione nel nostro obiettivo il terzo livello è quello un po' chiamiamolo un po' più alto un po' dei sogni diciamo così abbiamo raccolto tanti contributi esterni che vanno non so dalla Lisa Casali che parla anche di come utilizzare gli scarti delle verdure quindi le parti meno nobili utilizzando diofilizzando messicando le domande mobili in maniera per valorizzarle al meglio a Massimo Montanari con interventi storici Franco Passio con un bellissimo intervento sull'economia circolare la Laura Tostato che ha parlato di tutti i casi virtuosi che ci sono in Italia e in Europa e nel mondo sul recupero del cibo quindi anche soggetti con cui mettersi in rete e mettersi in contatto magari per fare cose insieme e sempre anche le mie lucubrazioni sul tema con tutti i sogni nel cassetto su quello che vorremmo andare a realizzare sul progetto nel senso che il progetto non fiducia di queste cene sarebbe troppo facile poi d'altronde se no non c'è niente da fare solo cene non è neanche divertente noi adesso stiamo cercando di portare i tempi di recupero tanto fuori dall'osterior della Svisa quindi anche in altri ristoranti anche magari nelle aziende se uno decide che vuole fare un catering di recupero quindi cercare di fornire una struttura che possa servire con una bella attenzione alla sostenibilità a 360 gradi un servizio in questo senso non solo ovviamente perché visto che ci sembrava un po' poco sto cercando di organizzare un tempi di recupero day oramai oggi se non fai un day non sei più nessuno e questo sarà un tempi di recupero day che faremo all'interno di un week quindi di una settimana perché non dobbiamo essere proporre ai ristoranti un giorno unico diventa un po' troppo vincolante quindi all'interno di quella settimana loro scendono il giorno che vogliono ma questo tempo di recupero day che sarà in ottobre novembre 2019 saranno guardi tardi non sarà solamente rivolto ai ristoratori italiani o agli osti italiani o anche alle case degli italiani quindi se doveste essere voi che decidete che con gli amici fate il vostro tempo di recupero day voi mi manderete il menu dicendo io lo voglio fare eccetera eccetera io vi chiederò almeno cento euro che voi raccoglierete tra le persone che avete invitato eccetera eccetera io ne destinerò di questi almeno 62 progetti di recupero del cibo uno dovrebbe essere il food for zone il progetto di cottura sui refettori che è in giro per il mondo che cerca di dare dignità alle persone che sono un po' estromesse dalla società e non hanno i mezzi per mangiare solitamente e food for change di slow food che praticamente si occupa più del cambiamento climatico ma il cambiamento climatico molto spesso è dovuto anche ai problemi legati alla catena alimentare al cibo quindi diciamo due progetti legati al sociale al cambiamento climatico e il resto diciamo l'output dovrebbe essere un menu come questo dove voi come immagine non avrete no chef se lo fate in casa lo chef inoltre questa è l'immagine dello chef creativo del menu che abbiamo fatto lunedì scorso alla schisa con uno chef stellato davvero Mariano guarderà il diavolo che dopo vi farò vedere un piccolo video sulla serata e qui lui aveva fatto tutti i piatti del quinto quarto quindi il simbolino che c'è qui è un osso ed è il simbolo del quinto quarto se uno fa il uso sono delle colpette se uno fa il recupero della tradizione c'è un mattarello diciamo così però qui diciamo è un menù che è un po' monotematico sul tema però uno può fare il tema che gli piace di più è chiaro che ci sarà il simbolino dell'attora chiaramente se uno fa in casa eccetera e quindi cercheremo adesso abbiamo fatto stiamo spendendo una corda di Pognammo che è un'agenzia che online manda nelle case dei privati i loro chef per fare le cene e quindi cercheremo anche con questi di farle nel recupero però vi dicevo saranno da loro internazionali io sono già andato a far due giri una a New York uno a Londra troppo in aereo e quello non è tanto sostenibile ma in me non avevo altro modo e chef in queste due città tutti quelli con cui ho parlato e con cui ho chiesto loro hanno già dato adesione al progetto anche a Barcellona sono già una quindicina di ristoratori che mi hanno detto che sono interessati quindi a questo punto mi sono gasato e ve lo dico perché lo facciamo davvero cercheremo di fare una cosa di cui si parli molto la parte successiva ovviamente io da queste cene da questo Tempi di recupero dei chiederò almeno una ricetta a tutti quelli che hanno avvenuto e partecipato e non escludo di fare un altro libro però con ricette anche internazionali che arrivano un po' da tutto il mondo e anche con diciamo contributori che saranno contributori un po' di tutto il mondo ora non so farvi capire qual è l'ambiente che si respira secondo me Tempi di recupero è più facile se vi faccio vedere un video che secondo me potrebbe essere una cosa carina vediamo se ce la faccio da solo quasi non avessi digitato questa è la serata del menù che vi sto facendo oggi dare questo è Mariano Guardinelli è uno chef argentino arrivato in Italia da otto anni è una stella miscena che ha due cucine due cucine anche perché è l'unica stella miscena nuova per Emilia Romagna in tutta la regione che arrivi cucina maricata con fuori di vie e con le vienere saltate continuo a scoppiata ho prodotto le spine e tutto e ho fatto una rivoluzione di cocco che ve lo c'è una maraghetta ma forse un risotto di semice e poi chiaramente per domande sui piatti eccetera tutto alla fine anche un parte personale tutto bene grazie a tutti per essere venuti e sarà un fa molto piacere questa moltitudine noi quando abbiamo tutte tutta la persona sono assolto i suoi ragazzi cucinano anche e mi ha fatto molto piacere per una visione che noi lavoriamo lavoriamo così da tanto insomma il fatto del spreco siamo in un momento molto molto squilibrato che il mondo ha bisogno che ci sia un po' di etica di equilibrio di uso e rimuso perciò tutti i fiat che noi abbiamo proposto stasera hanno un perché che praticamente si utilizza sia il 99% della materia che noi utilizziamo se è utilizzata è ben utilizzata diamo la parola a vino a questo punto avanti grazie tanto la tua occasione è molto grandita e mi fa molto piacere di partecipare una salata dedicata proprio al non spreco la riconsiderazione deve rimanere un po' tutto insieme non solo il piletto ma è veramente tanto che c'è la connessione la connessione tra quello che facevano noi potrebbe essere sì si sta recuperando tantissimo delle atti di comunicazione del passato ma questo non è in realtà questo un esso giusto perché la ricerca una situazione importante è come noi consideriamo la terra rispetto al passato e cioè proprio come facevano una volta parte della famiglia un essere vivente che conviene con noi e a noi da quello che ti vuole che ti può dare e che è in grado di dare nelle condizioni di cui è e siccome siamo noi che cerchiamo sempre di fare il massimo il massimo profitto dobbiamo trovare un equilibrio anche in questo di domanda e di compensazione o di rispetto più semplicemente a Nicola Terra ci spero che lo sentirete nei libri questo rispetto non lo sageriamo a conti se no non lo dico più niente no non so se si è percepito un po' quello anche che è l'ambiente che c'è vabbè tanto non lo lascio così cioè sono serate belle piacendo di con gente che si diverte con gente che normalmente c'è sempre da vincere uno scoglio quando quando si parla di recupero molte persone pensano che siano cose di scarso valore noi vogliamo attraverso le persone che portiamo come questi chef stellati eccetera dimostrare che non solo è di grande valore quello che è il risultato finale perché i piatti sono veramente buoni ma anche che sono anche poco omologati io che per mia fortuna perché ho questa passione ho girato tanto il mondo anche per ristoranti veramente importanti molto spesso ho trovato le stesse materie brine in New York in Italia in Francia in Spagna in Australia eccetera eccetera le stesse materie prime proprio non il filetto di una mucca diversa lo stesso filetto lo stesso la stessa piccola pressalee della Bretagna in New York in Australia eccetera eccetera questo omologa appunto quello che è il piatto perché chiaramente parliamo di chef che hanno delle tecniche straordinarie quando uno usa un prodotto del genere il piatto è eccellente sicuramente ma è spesso uguale a se stesso facendo perdere un po' le caratteristiche identitarie della cucina del proprio posto e anche un po' una sorta di omologazione perché se mangio la stessa cosa di fatto in New York in Italia o in Australia io non mi diverto tanto detta papale papale anche se il piatto è molto buono ora secondo me questo rischio non si corre quando tu come tema dai tutto nel senso puoi usare tutte le parti dell'animale del pesce del vegetale e fare le cose non so che ha fatto anche Mariano l'altra sera che ha frullato praticamente le canocchie usando tutte le parti quindi tirando fuori anche la lumina che hanno e tirando fuori delle sorte di uova che trattava come uova sode ma non vi faccio neanche pensare il sapore che aveva il brodo in un'ierba è una cosa senza senso cioè si può veramente realizzare delle cose originali uniche non omologiate con lo scopo nostro che è quello di far diventare come diventano gli anglofoni cool il recupero cioè deve essere una roba che diventa trendy oggi sul quinto quarto in parte è già un po' trendy nel senso che ci sono già oggi se vedete un piatto di cacio e pepe fatto in una vescica di peccola da camanini dal vindo dal gardone al riviero al ristorante eccetera è il piatto top di cui tutti hanno parlato eccetera piuttosto che l'anime di algin di scavini piuttosto che piuttosto che sono tanti piatti di quinto quarto che oggi sono trendy molto meno trendy sono i piatti al riuso sul riuso anche i chef importanti fanno abbastanza fatica nonostante la loro tecnica la loro inarruzione e la loro forza comunicativa a poterli portare all'onore del giorno noi con questo progetto qui invece stiamo cercando di fare esattamente questo portare sui tre temi e anche portare la sdora che per noi è una figura importantissima che è terentaria di una conoscenza di una tradizione unica la serata con la sdora costa come la serata con lo chef stellato questo è una cosa veramente importante poi chiaramente dico la verità faccio meno fatica di empir la serata con lo chef stellato che lo conoscono tutti che è quella con la sdora quindi sul mio progetto comunicativo c'è ancora qualcosa da fare ed è tutto perfettibile però per me è molto importante questa cosa il valore che ha questa figura che è molto importante che sia portata in alto e tenuta su anche dai suoi colleghi il prevetto gli stellati quando si fanno quattro mani con una sdora sono le persone più contente della terra le sdora sono sempre un po' in imbarazzo in attrazione però è sempre una cosa molto bella e quindi un po' questo è lo scopo è quello che stiamo cercando di fare che nel libro abbiamo cercato di raccontare il libro è come una tappa per noi è come diceva anche Luciana secondo me è già un bello oggetto l'abbiamo fatto ovviamente utilizzando carte di recupero quindi i recupero sono fatti dalla mocciola dalla mandola dal mais dall'olivo quindi tutta parte di recupero non dal frutto chiaramente ma dalla buccia e dai semi dalle parti legnose e anche le fotografie sono fatte dai professionisti abbiamo inserito molte tavole molti disegni che sono stati realizzati da un fumettista che peraltro è anche la persona che lavora la sfisa locale quindi che ha vissuto il progetto dalle prime sere e abbiamo cercato di fare qualche cosa che fosse una cosa nuova non semplicemente un ricettario di cose del recupero volevamo fare una cosa che fosse un passo di un progetto dentro cerchiamo di parlare di tante cose perché vogliamo anche stimolare le persone a delle riflessioni oltre agli interventi esterni oggi uno dei temi sempre molto discussi per quello che riguarda il cibo è legato sempre alle varie battaglie che ci sono tra onnivori vegetariani vegani eccetera noi parliamo anche di questo ma perché vorremmo rendere la cosa molto giocosa e scherzosa perché io praticamente nel libro dico che ci sono in qualsiasi scelta una faccia ci sono controvidazioni nel senso se è onnivoro mangi probabilmente animali che hanno nessuna vita non tanto bella allevamenti intensivi non proprio quella naturale che avrebbero voluto avere e poi finiscono i nostri piatti se è vegetariano certo comunque li toghi i nutrimenti latte miele eccetera anche quello è un ecco perfetto ma anche i vegani molto spesso per l'alimentazione vegana massiva per continuare i campi di soria c'è la forestazione dietro non solo la quinoa molto spesso porta delle popolazioni andine a passare visti i costi elevati della loro materia prima visto che finisce tutto all'estero a dover passare al junk food e mangiano schifezze si ammalano eccetera eccetera quindi qualsiasi roba uno faccia o sceglia non è mai che possa dire ci prendo di sicuro l'unica scelta che non ha contraddicazioni è il recupero se tu recuperi e non sprechi che tu sia un nivoro vegetariano vegano se sei un nivoro se mangi tutte le parti da vestire quinto quarto eccetera la rispetta di più che buttarne una parte e dedicarla venderla andando all'estero venderla per pet food chiaramente che già comunque recupera quello più che buttarla però almeno non si spreca però almeno c'è un rispetto dell'animale che almeno dà la vita stessa cosa se sei vegetariano e rispetti e utilizzi più parti possibili in un festo eco o vegano comunque non buttare via le cose diciamo è l'unica scelta che chiaramente non ha controindicazioni ma però questa cosa qui che oggi vi dico così un po' giocando va detta esattamente in questo modo perché non è una battaglia che noi vogliamo fare dove o si vince oppure si muore vogliamo cercare di comunicare questa cosa qui attraverso la ricchezza dei piatti la bontà dei piatti perché se uno poi viene però i piatti non sono buoni la tua comunicazione già si accartoccia ma se mangia delle cose straordinarie può veramente capire che con attenzione si può riuscire a cercare di fare anche attenzione in casa e di cambiare un po' il proprio modus operandi giornaliero e quotidiano che fa parte di quelle piccole scelte che alla lunga incidono e cambiano anche la società perché di fatto non è allora c'è sempre un grande scutere sui numeri di quello che si spreca in casa se è un terzo dello spreco mondiale ognuno dà i suoi numeri ma tanto c'è un grande per me è relativamente importante questa cosa che sia il 10% il 20% il 30% cioè che è sempre uno spreco ed è sempre una roba impensabile se penso ai miei nonni cosa avrebbero detto fatto se mi avrebbero sprecare delle cose mi avrebbero proprio detto che cosa pensavano di me in fretta per cui era una cosa che era l'economia domestica che veniva insegnata non esisteva lo spreco Maria Grazia Sonucini Chef Stellata della Capanna di Eraclio lei ha detto io quando studiamo questa era economia domestica non è che era previsto un altro modus la roba non si buttava appunto per cui e questa cosa anche dello spreco è una roba relativamente recente perché non c'è mai stata anche questa in passato nel senso che anche uno pensa non so nel medioevo solamente i nobili mangiavano gli altri non avevano niente i nobili non sprecavano niente lo mangiavano per scelta il quinto quarto e tutto quello che c'era della bestia poi chiaramente se rimaneva qualcosa lo condividevano con tutta la loro corte e accadevano lo spreco non esisteva non è mai esistito è una roba relativamente recente per cui insomma si cerca anche qui di trovare questi testimoni a questi soggetti che possano aiutarci a comunicare questo messaggio ma veramente in maniera leggera divertendoci perché non è l'unico modo che c'è di riuscire a spostare poi quelli che sono realmente i problemi sullo spreco che normalmente sono all'inizio e alla fine della filiera alimentare principalmente nei paesi molto poveri all'inizio dove c'è una logistica molto complicata e gli sprechi sono molto legati ai trasporti per uscire dai campi eccetera eccetera nel nostro caso nella nostra società sono più alla fine quando la grande estribuzione molte volte molte cose vengono buttate o comunque anche troppo mature o un po' bruttine non sono più vendibili ed escono dal circuito ma senza entrare in un circuito virtuoso del sociale quindi finendo in niente anzi in un rifiuto da svantire per cui io sono abbastanza convinto che se la sensibilità di tutte le persone partendo da casa propria in questo senso aumenta e si concretizza in qualche cosa di forte poi anche in la politica quindi inizio della filiera avranno dei cambiamenti e gli sprechieranno spero con un beneficio un po' per tutto il mondo io non so da quant'è che sto parlando non so questo è il fumettone che racconta proprio il progetto ostia sdore creative che recuperano quinto quarto piatti della tradizione mi avanzi e lo fanno con creatività improvvisazione ricette di ricette dimenticate eccetera fumetti racconto target anche giovanile perché loro devono ovviamente interiorizzare questi concetti in realtà noi non proprio giovani o diversamente giovani che abbiamo già più nel DNA bisogna che i giovani se la mettano un po' in testa perché diventa una cosa sicuramente molto interessante io non vorrei annoiarvi troppo anche la gente vorrei dare a voi la possibilità se qualcuno ha domande di farle perché se no se fate sempre un monologo nella pianta e nella suona non mi diverto poi abbiamo portato due o tre cose del recupero anche per cui vorrei dopo darvi anche la possibilità di fare un micro aperitivo sono micro assaggini chiaramente dove c'è un brodo matto con i mafrigul quindi un brodo matto dove all'interno che ne abbiamo un foraging anche questa montagnola parola inglese ma poi è di fatto raccogliere le erbe spontanee nei fossi che non è che sia una roba così però se raccontarla con foraging fa tutto un altro effetto però con i mafrigul che sono proprio i pezzi che rimanevano dalla sfoglia infatti secchi eccetera e di fatto anche nel libro c'è uno chef che ha fatto i risottati c'è una roba un piatto senza senso con una volontà fotonica e poi abbiamo anche una ricotta fatta al forno anche questa con erbe con un'emulsione eccetera la ricotta già lo recupero in sé perché è una roba che non è dall'ate ma è dal siero la cui già uno dice ricotta e già recupero ma in questione questa poi fatta al forno diventa anche un'assagino interessante ovviamente visto che io nell'altra attività seguo anche cinema di vino non dobbiamo bagnare la cosa con dell'acqua perché non mi sembrava neanche poi una cosa carina e quindi sono dei vini ovviamente del nostro territorio quindi un albano che è un vitigno straordinario da recuperare sempre più che non è per niente banale non è omologato quando facciamo questo concorso che si chiama Albana Day che organizza insieme a Andrea Spada che facciamo tutti gli anni da sei anni è il campionato del mondo dell'albana secca l'albana è solo qui quindi tutto quello che noi assaggiamo è il campionato del mondo quindi chi esce i migliori sono i migliori albana del mondo questa è l'albana che si piazza sempre molto bene quella di Tremonti in linea rocca e poi abbiamo il sono che è il Sangiovese senza solfitti che anche questa è una roba noi non avrete visto facciamo anche molta attenzione al naturale in vino tant'è che da ora abbiamo fatto un accordo con Deir che è questo importatore normalmente di distillati ma che ha fatto questo progetto che si è a tripla che sta per artigiani agricoltori e artisti e sono tutti produttori che lavorano con un impatto ambientale bassissimo in questione la ragazza che avete visto nel video la produttrice che avete capito dal Veneto è della Valpolicella l'accento Veneto è abbastanza percettibile è una produttrice della Valpolicella che si chiama Musella e lavora in biodinamica quindi più che biologico quindi un'attenzione veramente molto molto forte a quello che è anche il territorio perché è quello a noi interessa a livello di racconto e a livello di narrazione che vado a fare adesso a voi se no io mi squimisco perché sono un po' un po' non so se avete intercedito questa cosa queste serate alla schisa prego è così la sento io la sento ma dopo la sento anche no chiedo le serate che fate alla schisa dove si può ricevere quando ci sono eccetera se io conosco il locale non voglio conoscere ma anche l'altra però non sapevo di questa cosa dove quando eccetera allora le serate della schisa ovviamente sono spesso sui social chiaramente sul sito della schisa ma da due no quattro mesi in questa parte anche sul sito di tempi di recupero perché adesso abbiamo anche un sito di tempi di recupero dove abbiamo un calendario anche di tutte le serate che noi facciamo non solo alla schisa ma anche in giro per l'Italia esattamente o anche quando sono aperte nelle case dei privati quindi lì ci mettiamo tutto però si sui siti normalmente e premetto alla schisa le serate sono da sempre da sei anni a questa parte sempre lunedì sera che è il giorno del recupero per eccellenza tu vieni dal weekend e quindi tu hai delle cose anche che possono essere rimaste ma soprattutto anche in termini pratici è il giorno di chiusura di tanti restauratori quindi gli ospiti vengono più facilmente riusciamo ad avere anche ospiti importanti noi abbiamo appunto veramente anche da due stelle Michelin alle azdore ma sono venuti un po' tutti questo un po' l'amicizia perché non vengono certo per il gettone e un po' per il tema chiaramente perché sta un po' ancora a tutti e questo secondo me è un bel indicatore un bel indice però sito www.tempidirecupero.it tra l'altro adesso ce l'abbiamo anche in inglese visto che appunto vogliamo che ci seguano anche dall'estero chiaramente sulle serate sui calendari l'inglese non lo mettiamo al momento perché vengono da New York quindi la rispisa è ancora un po' troppo delle nostre aspettative ma lavoriamo anche su questo per cui allora io passerò per le scatole però è capitato l'assessore civico allora volevo sapere se in un progetto di tempi di recupero sono previsti anche delle ricette che pensano all'intolleranza alimentare allora è una domanda con la quale ovviamente mi sono trovato a internazzarmi molte volte nel senso che io ho diversi appassionati sul tema che hanno chiaramente lo stesso problema in particolare anche uno che è un libro che ha fatto una serata che è uno degli osti non faccio nomi quello delle ombre di Forlì ma che lui ovviamente nelle serate dove c'è il problema dove c'è il glutine massivo lui non può venire allora è chiaro che anche lì cerchiamo di muoverci allora io non posso dire allo chef devi farmi anche non solo recupero ma anche tutta la roba senza glutine perché sennò restringo talmente il campo ok però molte serate indipendentemente da succede che ci sono già due o tre piatti che sono senza glutine su quattro solitamente e per cui in quelle situazioni lì noi io vi dico di creare un quarto un'alternativa per i celiaci e sono io dopo che invito direttamente i celiaci dicendo ragazzi questa è la serata giusta anche per noi perché riusciamo a trovare una quadra però diciamo non riesco non riesco sempre sono più le serate che sono inaccessibili che quelle accessibili però ogni tanto capita ci mancherebbe avete fame eh io ho recepito questo suo progetto a tempi di recupero come anche un invito per i privati a taggire in questa modalità e ci voglio delle abilità uno ha già scelto abilità di su per le cose basiche magari utilizzare gli avanti mi sia un po' complicato no? allora oggi no 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 allora oggi è complicato secondo me in sé cucinare qualche cosa di buono di sensato perché molto spesso uno ha poco tempo a stanco eccetera molti anche della mia generazione non sapevano neanche farsi un piatto di pasta decente ma aglio olio e carrucino nel senso la roba tasica perché di fatto scaldavano sempre solo delle cose e non cucinavano più secondo me allora cucinare di recupero può essere anche molto complicato nel senso che qualche ricetta che voi potete trovare nel libro non sono rovi che uno si improvvisa in 2-2-4 vi faccio un esempio c'è un piatto di Riccardo Agostini che è uno chef con una stella Michelin a Pennabilli al piastrino uno bravissimo ha lavorato con Missani ha lavorato con tutti i migliori chef d'Italia forse è il ristorante con la stella di chef più economico a rapporto con il da prese d'Italia lui ha fatto una cortezza di topinambur e si capta il forno con il topinambur dentro con anche delle parti ulteriori una sorta di crudità di rapa e al lato un piatto solo vegetaliano quello era perfetto anche per i geriasi tra l'altro e dove però vi faccio un esempio e sto parlando di ristoratori nelle presentazioni del libro che ho fatto o in corsi che ho fatto come questo recentemente a Conegliano per i formatori degli insegnanti dell'ambiniere è un progetto europeo quindi proprio con fondi europei per i docenti eccetera dove sono andato a raccontare la testimonianza hanno prodotto tre volte questo piatto o se ne fosse stato uno che veramente era fatto simile no erano tutti tre fuori però questa è la cosa importante ognuno l'aveva reinterpretato per cui nessuno dei tre era venuto male quindi di fatto secondo me con un po' di attenzione diventa anche un divertimento sul tema diverso è chiaro che se uno ha gli ospiti quella sera lì non è che sono cavie cioè non è uno che deve aver fatto almeno una provetta un tetto al libro per spettimento per cui di fatto se uno è bravissimo ha una grande esperienza fa tutto con la mano sinistra se uno ha un po' meno esperienza fa una prova e la seconda cerca di tarare ma poi quando invita amici i soldi amici perdonano tutto per cui Artusi è stato per il nostro locale un eccellente insegnante ma non sul recupero nel senso il suo allievo Vindo Duerrini che era un suo allievo ha lavorato moltissimo sui piatti di recupero diciamo Artusi in realtà era più su piatti importanti della tradizione assolutamente nazionale è quello che ha qualche indicazione la data perché come vi dicevo lo spreco non esisteva lì eravamo nell'ottocento le ha date come l'indicazione perché non si sprecava niente era una roba moderna lo spreco però in particolare sull'arte di Olindo Guerrini eccetera lui ne parlava stecchelli insomma l'indicazione all'interno veniva da Forte Popoli stecchetti veniva da Villanova di Rabelli originariamente da che si può è finita con ogni biblioteca proposta di biblioteca San Alberto esatto sì sì comunque di zona zona della basso la Villanova che invece è molto più giù ma invece è molto più su e comunque avevano si scrivevano tanto si frequentavano tanto a tutti i giornini qui direi che siete maturi per assaggiare qualcosa secondo me diciamo proprio che intervenire in realtà senza visto che ormai ci siamo all'ora della 20 hour direi che possiamo andare ad assaggiare e io ringrazio moltissimo per questa elezione il riuso secondo me è qualcosa fondamentale che appunto appartenere soprattutto a questa generazione secondo me perché io già penso a mia madre e a mia nonna avendo fatto la guerra chiaramente era un discorso che non esisteva nulla si spettava in casa per cui benvene adesso questo tema qui che fortunatamente sta entrando nella mentalità di noi più giovani diciamo e sta entrando anche nei ristoranti banalmente fino a dieci anni fa dove non poterli assolutamente neanche concepirlo adesso invece è diventato qualcosa di normale così come anche iniziative sia in Italia dall'estero di dare i resti o alla Caritas o ai canili ed attivi e quant'altro è anche una forma di riuso di non spreco del cibo che insomma direi che è fondamentale è un tema secondo me molto importante su cui bisognerebbe ritornare periodicamente io vi invito allora ad accomodarvi e grazie mille a tutti per essere intervenuti buona serata vi dito un'altra cosa vi dito un'altra cosa ancora per chi avesse voglia la prossima cena di recupero me la fate vedere in mente con la doggy bag perché è una delle robe che avremo stinto a menù sarà giovedì prossimo a Fico a Bologna proprio quindi nel baraccone di Fico dentro lo spazio della Campofilone che sono i maccheroncini quelli marchigiani fotonici della zona di interno dove ospiti saranno quattro mani quindi con un piatto gestito dallo chef presidente che saranno lì nella scolana di parte ma fatto fatta alla vecchia maniera e tre piatti fatti dalla campanella di Pianetto di Galeata che sono quegli chef che vedete spesso a Geo perché sono spesso e che hanno soltati e loro sono mostrerie a Chiozzo di Snow Food sono bravissimi e fenomenali e chi non dovesse finire i piatti a Pico c'è la Tocchi e lì e lì avremo tra l'altro un vino di triple A poi un altro ultimo elemento la zona che state per mangiare è una recettazione di Marco Cavallucci quindi ex chef della frasca per Stanley Michelin per 26 anni quindi forse il più stellato d'Italia e Marco Toffi grazie anche a lui che ve lo servirà se avete trovato mi ricordo che all'uscita ci sono anche i libri da acquistare e a punto di tempo diretto grazie a tutti grazie a tutti